L'elezione di Ugo Maggio arriva alla terza votazione, con 15 voti contro i 12 di Iacovacci. Il consigliere del gruppo davvero è eletto alla presidenza del Consiglio. In un clima da primo giorno di scuola, l'era Ciampi prende il via all'insegna della confusione. Gruppi e sottogruppi non ancora costituiti, ma già operativi, sono destinati a rallentare l'amministrazione. Ma procediamo con ordine. La sfida per la presidenza è tutta interna al centro-sinistra. Nel segreto dell'urna si sfaldano le compattezze del Movimento e del centro-destra. Iacovacci dovrà accontentarsi della vicepresidenza. Subito dopo il sindaco giurerà sulla Costituzione. Il suo discorso è alla città. Agiremo senza compromessi per il cambiamento su punti programmatici condivisi. È la volta della giunta. Gli assessori vengono presentati uno ad uno per le linee programmatiche. Se ne riparlerà al prossimo appuntamento, ma le schermaglie già si manifestano. Arace e Ambrosone chiedono una svolta sui problemi che al momento non vedono. Scintille, Petito, De Angelis sul tema titoli ricoperti e ruolo di amministratore. Preziosi annuncia, ma non denuncia, la presenza di incompatibilità in giunta. I popolari con Giordano invitano a fare variazioni di bilancio per rendere le scuole antisismiche. Più che pensare al ferragosto. Pizza rilancia la necessità di mettere in sicurezza l'archivio storico comunale. La prima replica politica per il movimento è affidata ad Aquino, impredicato di ricoprire il ruolo di capogruppo. Se si vuol pensare al bene comune, dovremmo essere 32 consiglieri e non solo 5. Per Gaeta, di insieme protagonisti, gli assessori dovranno tenere le porte aperte al dialogo e all'esigenza dei cittadini. L'unica stella polare che dovrà guidare il mandato di tutti. Insieme alla verità, perché, aggiunge il consigliere, bisognerà guardare negli occhi e dire che il reddito di cittadinanza non potrà essere erogato. La discussione lascia spazio all'ultimo punto all'ordine del giorno. La nomina dei componenti della commissione elettorale, incaricata di scegliere gli scrutatori. L'Aula approva all'unanimità la mozione Arace che impegna gli eletti a procedere al sorteggio integrale e non alla chiamata diretta. Faranno parte della commissione i consiglieri Dalliasi, Nargi e Pizza, nominati sostituti da Alessandro, Negrone e Gaeta. Tre giorni di tempo e i consiglieri dovranno formalizzare la costituzione dei gruppi. Poi, Ugo Maggio, presidente, convocherà di nuovo il Consiglio Comunale.